Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata, nella pianura dove c'è il mulino, ho costruito un pozzo automatico, dove è possibile riempire e svuotare dei secchi d'acqua. Molti di voi nei commenti mi hanno scritto che questa invenzione non è particolarmente utile e sono d'accordo, però la mia intenzione era quella di portare nel Let's Play qualcosa di nuovo che normalmente non si vede in un video. Un'altra cosa importante che volevo dirvi riguarda la prossima settimana. Dato che durante il weekend avrò un impegno, non sono sicuro di riuscire a portarvi un nuovo episodio del Let's Play. Pertanto vi invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook, mi trovate sempre con il nome Tech for Play anche se non siete iscritti, dove andrò a scrivere aggiornamenti. Nella puntata di oggi invece voglio andare a verificare una cosa che uno di voi mi ha scritto in privato e cioè che vicino al portale del Nether si trova una fortezza. Ora ragazzi, io tantissimo tempo fa mi sono dannato per riuscire a trovare una fortezza nel Nether e l'ho trovata a centinaia di blocchi di distanza, ma a quanto pare a poche decine di blocchi dal portale c'è un'altra fortezza e a questo punto oggi vorrei andare a verificare la cosa e vedere un pochino che cosa possiamo trovare al suo interno. A questo punto mi preparo e ci vediamo nel Nether. Prima cosa, indossare armatura di diamanti. Fatto! Seconda cosa, scorta di Ender Pearl. Fatto! E infine Ender Chest, fornace e crafting table. Fatto! Ok, finalmente possiamo trasferirci nel Nether. Woohoo! Eccomi qua arrivato ragazzi nel lab del Nether che prima o poi dovrò sistemare. Dunque, devo confessarvi che in realtà ci sono stati due messaggi a riguardo di questa fantomatica fortezza. Uno che ho ricevuto parecchio tempo fa e non ricordo da chi, che mi diceva appunto che qui vicino c'era una fortezza, però al tempo avevo altri progetti in mente e quindi non ho verificato la cosa. Dato che mi è arrivato questo secondo messaggio, questa volta mi ricordo da Francesco che mi ha scritto anche delle coordinate, a questo punto voglio verificare. Dunque, ho controllato e dovrei scavare più o meno 8-10 blocchi da questa parte, poi 20 blocchi verso l'alto e circa un'ottantina di blocchi in questa direzione e dovrei incontrare uno dei corridoi della fortezza. A questo punto ragazzi vi risparmio lo scavo e appena avrò trovato qualcosa, o almeno spero, vi farò vedere. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, dovremmo essere quasi arrivati, speriamo che sia vera questa cosa che mi avete scritto. È vero ragazzi, è vero e siamo vicinissimi perché vedete, là in fondo c'è la torcia dove c'è la scala che sale. Non ci credo ragazzi, è veramente la fortezza questa. Mamma mia, ma quanto tempo è che è rimasta qui ragazzi? Perché io ho scoperto il nether tantissimi episodi fa, non ricordo, forse era l'episodio 20. Non ci credo. Guardate qua ragazzi, però mi sembra tutta quanta... mi sembra chiuso questo corridoio però. Mi sa che dovremmo scavare ancora ragazzi perché qui non ci sono altri corridoi. Probabilmente è tutta quanta all'interno della nether rack. Potremmo andare da questa parte però io andrei di qua perché dall'altra parte torno indietro. Quindi io scaverai in questa direzione. Vediamo se il corridoio riprende un po' più avanti. Stiamo attenti ragazzi qua a scavare. Eh sì! Guardate ragazzi! Pazzesco! Un altro corridoio! No! Veramente grazie per chi mi ha segnalato questa cosa e ci sono anche gli scheletri. Magari ci sono anche gli scheletri Wither qua. A questo punto potremmo recuperare altre teste facilmente. Uhu! Ho visto là una cosa... Cos'è? Cos'è? Ah è lo scheletro Wither! Oh mamma mia! C'ho pure la testa con sopra... È vero! Oggi è Halloween quindi praticamente c'è la testa... Ok! Ok! Ok le blades! Va bene! Va bene ragazzi! Sì c'è tutto qua! C'è una fortezza completa funzionante! Benissimo! Benissimo! Mamma mia gli scheletri Wither ragazzi! Fantastico! Abbiamo una fortezza a due passi dal portale. A questo punto dovrò sfruttarla assolutamente. Guardate! Mamma mia! Ma è grandissima! È enorme! me! Guardate qua! No! Continua pure là in fondo! Ragazzi incredibile! Incredibile questa fortezza! Qui c'è anche della Glowstone! No! Fantastico ragazzi! Qua adesso dobbiamo esplorare assolutamente! Allora vediamo un po' cosa c'è qua! Andiamo avanti in questo corridoio! Allora qui c'è... Ok! Oh! Un altro scheletro Wither! Che spavento! Che spavento! Che spavento! Mamma mia! Allora qualche testa? Ancora niente! No! 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 Ah no! Sono io che sono avvelenato! Mamma mia! Uh! Una cosa di blades! Una cosa di blades! Allora aspetta! C'è uno spawner di blades ragazzi! Oddio c'è uno spawner di blades qua! Ragazzi qua io sto già pensando a cosa fare! Sì! A parte scappare e dovevo portarmi anche l'arco giustamente! Ho fatto tutta la scenetta dell'equipaggiamento e poi mi dimentico l'arco! Ragazzi! Sto pensando una cosa! Io adesso esploro un po' questa qua e poi inizio subito a fare una farm di blades perché così vicino non mi capita più di avere una fortezza! Fantastico ragazzi! Allora prima cosa mettere in sicurezza questo spawner! Quindi faccio rientro a casa! Vado a recuperare delle pozioni di resistenza al fuoco in modo che qua possiamo andare a tappare con della terra che vado anche a recuperare questo spawner di blades! Ok facciamo così ragazzi perché a questo punto dobbiamo iniziare anche a costruire qualcosa qui è tipo appunto una farm di blades! Ci vediamo appena sarò rientrato con le pozioni di resistenza al fuoco magari anche un arco e poi vediamo di mettere in sicurezza quella parte dove c'è lo spawner! Ci vediamo tra poco! Perfetto! Per chi non lo sapesse le pozioni di resistenza al fuoco si fanno con la base di awkward potion poi del magma cream e infine io metterei anche della redstone per allungare l'effetto della pozione a 8 minuti! Allora vediamo se è entrato tutto nell'ordine giusto! Qua sì e qua sì! Perfetto ragazzi! Devo solo attendere che si preparino le pozioni! Perfetto ragazzi sono andato a recuperare il necessario ora vi faccio vedere quanto è vicino a questa fortezza! Come vedete questa è la scala che sale poco più in alto e qui c'è il corridoio che vi ho fatto vedere poco fa! A questo punto andiamo a bloccare lo spawner di blades! Molti vedo che nei vari video del let's play usano la modalità pacifica per evitare che spawnino i mob ma siccome io sono temerario voglio farlo in survival e quindi mi sono preso queste pozioni in modo da riuscire a non prendere fuoco con le blades e poi devo riuscire a tappare appunto lo spawner! Allora per fare questo prendiamo prima la pozione di resistenza al fuoco poi dobbiamo andare a scavare intorno allo spawner stando attenti a non romperlo e mettere dei blocchi tutti attorno! Esattamente vi spiego quanti ecco appunto dovete combattere anche contro le blades mentre facciamo questo lavoro e magari i pigmen no! Allora dobbiamo mettere un blocco sopra lo spawner uno sotto e quattro da ogni lato quindi dobbiamo aggiungere scusa tu mi stai bloccando lo spawner dai che poi arrivano le blades ed è un disastro ok utilizzo la terra perché così ragazzi quando andremo a togliere questi blocchi non ci sarà il pericolo di andare a rompere lo spawner che appunto poi non riusciremo più a riottenere allora mettiamo anche sotto qua un'altra terra così perfetto e adesso abbiamo messo uno adesso aspettate che uccido questa blades aiuto allora non è facile fare sto lavoro perché devo anche scavare nel frattempo allora uno andiamo a rompere tutta questa cosa qua in pratica devo fare una specie di blocco di terra che sarà grande 9 per 9 e alto 3 quindi dobbiamo stare molto attenti allora 1 2 3 e ancora 1 me ne serve ok allora stiamo attenti alle blades e 4 ok adesso dobbiamo togliere qua sì sì lo so che siete lì ma io vi lascio lì per il momento anche un po di quarzo allora vediamo di non fare disastri qua qui sta prendendo fuoco tutto ok allora 1 2 3 e 4 ok sì c'ho la resistenza al fuoco non mi fate niente tanto allora 8 minuti di resistenza al fuoco ok 4 adesso di là ragazzi è un disastro ok allora facciamo un po di luce andiamo avanti qua scavare io scavo senza curarmi delle blades altrimenti ci metto un anno a fare sto lavoro no 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 pigman no aiuto sono caduto allora 2 no c'è il pigman c'è il pigman c'è il pigman dai vai via tu ok allora 2 3 e un altro blocco lì mi serve tolgo questo e 4 ok adesso qua dobbiamo farlo anche di là di là allora vediamo se ce la faccio ok quante blades ci sono già qua ah mi stanno colpendo dai via di qua via cos'è sto buco da fastidio oh ok aiuto ragazzi mettere in sicurezza sta cosa non è facile 1 2 3 e 4 ok ce l'ho fatta adesso devo solo riempire di terra qua allora via ok aiuto aiuto mi ha colpito ok stare attento attentissimo devo stare adesso vado un po qua sotto ragazzi a questo punto faccio uno stacco mentre faccio sto lavoro comunque avete capito sono abbastanza tranquillo perché non dovrebbero scocciarmi più di tanto le blades come vedete non prendo danno perché ho questa pozione però devo stare comunque attento perché potrei colpire invece dei pigman ok così adesso di qua ok andiamo a riempire anche qua 2 3 è così ok adesso qua devo riempire tutto di terra ok quindi qua 1 2 e sopra anche qua 1 tarnè del rack c'è qua ok ok ragazzi è un lavoraccio ok però ce la sto facendo via ok devo anche mangiare ok e 4 adesso devo riempire qua quanto fuoco quanto fuoco mangia tech quanto abbiamo ancora 4 minuti ragazzi disastro ok mettiamo i blocchi questo dovrebbe bloccare assolutamente questo spawner ce ne sono tantissime di blades però dobbiamo farcela lo stesso ok adesso diminuirà anche lo spawn delle blades man mano che aggiungo la terra ok ragazzi faccio questo primo stacco mentre faccio questo lavoro e spero di riuscire a bloccare tutto quanto nel minor tempo possibile ci vediamo tra poco perfetto ragazzi dovrei avercela fatta e sento ancora delle blades ma probabilmente sono quelle che sono rimaste incastrate da qualche parte però dovrei aver tappato lo spawner adesso vado a mettere anche un po di luce qua io le sento ancora però ragazzi non le vedo quindi ecco forse ce n'era una di qua no neanche adesso vado a liberare qua sotto in modo che possiamo passare non è stato facilissimo ma neanche complicato ragazzi quindi se utilizzate la pozione di resistenza al fuoco diciamo che diventa molto più semplice quindi ricapitolando lo spawner sta in mezzo bisogna mettere 4 blocchi per ogni lato e poi fare 3 strati uno sopra quello dove c'è lo spawner e uno strato più sotto e quindi avrete praticamente bloccato lo spawn delle blades ok ragazzi mi pare che la situazione sia tranquilla quindi sono molto molto contento quindi adesso vado a liberare ancora un pochino ci vediamo tra poco e poi continuiamo un attimino anche l'esplorazione della fortezza perfetto ragazzi ho messo in sicurezza la zona come vedete c'è questo blocco di terra ora vi faccio vedere anche sopra così guardate bene quanto è grande qua dovrebbe esserci lo spawner eccolo qua ecco subito una blades giustamente appena l'ho liberato andiamo a chiudere subito altrimenti ne spawno delle altre e siamo a posto ragazzi quindi prossimamente andrò a costruire una farm di blades che tra l'altro sarà molto utile anche perché nella 1.9 che uscirà tra un po' di tempo sarà obbligatorio utilizzare la polvere di blades per fare le pozioni e quindi mi serviranno molto le blades rod che tra l'altro sono anche un ottimo sostituto al carbone nelle fornaci allora adesso andiamo da questa parte perché vorrei continuare un attimino l'esplorazione della fortezza come vedete è piuttosto grande allora io devo stare attento ma volevo lanciare una bella ender pearl qua sotto e provare ad esplorare questa zona speriamo di non cadere male ok perfetto allora da questa parte cosa c'è io cerco di illuminare non tantissimo perché vorrei che gli scheletri wither possano spawnare in questa zona però ragazzi cercherò anche di farvi vedere qualcosa anche se la luminosità è già settata al massimo allora da questa parte non c'è niente però di qua si può andare quindi andiamo di qua e vediamo un pochino che cosa c'è allora qui c'è un altro corridoio lunghissimo lascio indietro il quarzo che posso venire a recuperare tranquillamente in un altro momento allora corridoi infiniti e la fortezza finisce qua ok adesso andiamo dall'altra parte è veramente gigante questa fortezza ragazzi non me la immaginavo così grande e soprattutto così vicina al mio portale pensate un po quanto tempo ho impiegato per trovare una fortezza e ce l'avevo proprio a portata di mano va bene non importa abbiamo comunque fatto delle ottime avventure anche in quell'altra allora continua anche dall'altra parte ragazzi incredibile incredibile allora qua a parte pigment zombie non vedo nient'altro quindi vorrei andare da quest'altra parte adesso ed esplorare quest'altro corridoio allora metto giusto qualche torcia qua e là qua non dovrebbero sponare tanti witter ok sento delle blades ancora ah ecco ce ne sono di qua quindi andiamo a tirare di arco qua per prenderle ok lanciamole da lontano così uccidiamole da qua ah no 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 non mi puoi colpire tu non mi puoi colpire ok va bene perfetto le uccise ok no non c'è nulla neanche di qua ragazzi quindi anche questa deviazione non serve a nulla quindi andiamo di qua e procediamo su questo corridoio tra l'altro devo mangiare tantissimo perché ho finito anche il cibo no voi non dovete guardarmi così male perché io ho un po' paura allora allora possiamo scendere lì sotto ma sì dai andiamo a vedere cosa c'è lì ok uh i ghast ho sentito un ghast eccolo là in fondo ragazzi proviamo a uccidere il ghast oh prendi questa ok prendi questa è tua prendila 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 ok riprenditi la tua ok perfetto uh cosa cosa è caduto qua lacrime no purtroppo no solo esperienza accidenti peccato ma questa cos'è un corridoio ok è un corridoio normalissimo perfetto devo anche craftarmi delle altre torce ok andiamo a fare tutte queste torce perfetto e continuiamo allora il corridoio procedeva da quest'altra parte ragazzi spero di trovare anche delle ceste perché dovrebbero esserci delle ceste interessanti nelle fortezze vediamo un po allora mamma mia quanto è lungo questo corridoio mi ricorda un pochino l'episodio di halloween che ho fatto due anni fa che era il numero boh 70 forse può essere allora vediamo un po oh un altro spawner di blades che però lascerei in pace perché ragazzi ora non mi serve fare un altro spawner di blades però so che c'è e quindi potrebbe essere utile a questo punto ragazzi faccio un giro ancora in questa fortezza e vi faccio vedere ovviamente se trovo qualcosa di interessante ci vediamo tra poco scheletro witter ragazzi scheletro witter speriamo di recuperare una testa io vorrei una testa di witter allora mi anche avvelenato ma di teste nessuna peccato ok in questa zona ci dovrebbero essere delle casse forse vediamo un po di esplorare allora eccole lì una perfetto allora qui non c'è nient'altro andiamo a vedere questa cassa che delusione ma che delusione cioè una spada d'oro che non me ne faccio niente e una sella vabbè la sella ne ho tante peccato anche qui nulla di fatto un po di magma cube e questi sì che devo ucciderli perché mi servono le magma cream per fare le pozioni di resistenza al fuoco magari li pigmen li lasciamo stare ma magari proprio oh attento tech che se colpisci il pigmen poi cosa fai ok quante magma cream ho recuperato ewewewe calmi e calmini 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 c'è anche una blaze lì calmini ok la blaze la prendiamo da lontano wewewe che ho ragazzi eh bisogna stare attenti eh non ho più cibo ancora magma cube e quanti ok dai quante ne ho prese di magma cream 11 solo mamma mia possavo molte di più oh stavo per colpire il il pigmen sarebbe stato letale in questo momento il pigmen ok uccisi tutti perfetto procediamo ok ragazzi mi rimasta una sola bistecca ma voglio fare un ultimo tentativo e cercare di raggiungere l'altra parte della fortezza quindi lancio questa ender pearl ok non sono caduto e adesso speriamo di trovare qualcosa in questa parte della fortezza devo uccidere le blades altrimenti è pericoloso qua andare in giro c'è anche uno scheletro wither sì perfetto lo scheletro wither potrebbe essere utile magari trovo una una testa una testa di wither nooo mamma mia ragazzi perché ho rischiato così perché ho così no tu sei pazzo tech hai fatto una cosa bruttissima hai fatto una cosa bruttissima lo sai tech mamma mia non vedo niente ragazzi ok ma perché ho fatto questa cosa mamma mia che spavento ho detto adesso è finita me lo sono detto ve lo giuro adesso devo entrare qua come si fa accidenti mi sono incastrato ragazzi è andata bene è andata bene ok mettiamo le luci non vedo niente è troppo buio il nether è troppo buio il nether ok devo riuscire a tornare su ok mamma mia ragazzi mamma mia che rischio mi sono preso anche stavolta per andare a prendere delle cose inutili ok sono tornato su mettiamo una torcia qua e apriamo un varco speriamo che valga la pena andare a fare questa esplorazione perché ho già avuto un po di di emozioni allora ok allora mettiamo torce anzi facciamoci delle torce quindi mi faccio degli stick allora vediamo un po mettiamo un po di torce così e vediamo un attimino cosa si può trovare qua allora andiamo da questa parte allora di qua si scende a qui cos'è che c'è ok c'è quella che non mi serve ne ho tantissimo una cesta ho ho un'armatura di diamante per cavalli ebbe 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 valeva la pena allora venire di qua a rischiare la vita beh forse non lo so però per il momento buono attento tech attento allora andiamo avanti direi di andare anche dall'altra parte anche qua mi sembra che finisce qua sì quindi possiamo tornare indietro mamma mia scendiamo di qua e saliamo dall'altra parte ok è veramente enorme ragazzi è veramente enorme scendiamo di qua allora da questa parte vedo un magma cube vabbè vai giù tu non voglio vederti prova a scendere di qua ragazzi se vedete qualcosa un'altra cesta un'altra cesta un'altra cesta tre diamanti tre diamanti e un'altra di queste armature tre diamanti ragazzi ma vai che fortuna allora mettiamo adesso la ender chest e andiamo a mettere via un po di cose perché i tre diamanti e queste armature qua la magma cream questi queste cose qua possiamo mettere tutte via in modo da avere più spazio tre diamanti ragazzi tre diamanti incredibile incredibile allora andiamo a rompere l'ender chest facciamo ancora un piccolo giro e poi chiudiamo l'episodio perché oggi è stato veramente lunghissimo allora andiamo da questa parte non c'è più nulla ok sento ancora il magma cream da qualche pa scusate il magma cube girare eccolo qua quello di prima quindi vai giù te non voglio vederti ok di qua si può andare no quindi non andiamo di qua nemmeno ma salta giù no c'è lo scheletro witter là in fondo ma lo lascio lì di qua si può andare vediamo ok qua c'è un'altra parte esplorabile anche ghast là in fondo il ghast vieni qua ghast dai dai ok l'ho ucciso perfetto ragazzi siamo arrivati a un altro witter e un altro spawner di blades dai una testa magari per chiudere la serata scusate la giornata no niente teste ok ragazzi a questo punto direi che possiamo chiudere qua l'episodio perché è stato veramente intenso soprattutto quest'ultima parte ragazzi abbiamo trovato anche dei diamanti e una armatura di diamanti per cavalli a questo punto non ho il tempo di preparare una risposta alle vostre domande nella prossima puntata vedrò di uscire da questa fortezza e iniziare la costruzione magari della una cesta e altri due diamanti ok ragazzi chiudiamo qui l'episodio stavo dicendo che nella prossima puntata cercherò di iniziare la costruzione della blades farm a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti